L'ITS, l'Istituto Tecnico Superiore Agroalimentare di Teramo, presenta il nuovo bando studenti per il bienio formativo 2017-2019. Una scuola di alta formazione post-superiore che ha completato tre percorsi biennali, diplomando 50 studenti e quasi tutti hanno trovato lavoro nelle aziende dell'agroalimentare abruzzese. Quest'anno la figura formativa è tecnico superiore per l'internazionalizzazione e il marketing dell'agroalimentare e dell'enogastronomia. Questo lo consideriamo il corso della nostra maturità perché realmente la figura professionale che andremo a formare è una figura che ben si adatta al tessuto industriale e produttivo della nostra regione. In questi anni voi avete formato tanti ragazzi, come è andata poi l'occupazione dopo questi corsi? Allora, questo è il punto di forza di una scuola così particolare come l'ITS. Noi abbiamo una percentuale di occupazione dei nostri studenti dopo un anno che è in media dell'80%. Il nostro ultimo bienio valutato, l'occupazione è stata dell'86% ed è questo il punto di forza, l'orgoglio del nostro lavoro. Gli ITS sono delle scuole che veramente stanno dando delle grosse soddisfazioni? Sì, l'ITS funziona quando c'è una reale vicinanza, collaborazione tra gli enti di formazione, tra la formazione, tra le scuole e le imprese. In Abruzzo ce ne sono quattro, oggi siamo nell'ITS agroalimentare di Teramo, ma ci sono anche gli ITS della Moda, dell'Energia e della Meccatronica. Sono quattro ITS regionali, anche se sono collocate in province diverse. Oggi qui presentiamo il prossimo bando per far sì che i ragazzi possano partecipare, quindi cominciare il primo anno di corso.